I suonavamo dentro alle parole, nasceva questa magia. Noi avevamo queste grandi parti strumentali e suonavamo sulla struttura melodica armonica delle canzoni di Pino, come si usava nel jazz. E veniva fuori una cosa straordinaria perché il live di quegli anni faceva impazzinare la gente. Mi ha dato questa telefonata a casa, no? E' pronto, sono Pino Daniele, vorrei suonare con Napoli Centrale. Quando lui ha bussato la porta, ho visto questo ragazzone tipo indiano, no? E questo per me era positivo, no? Ho detto, entro, ci sono Pino. Ho sentito Napoli Centrale, mi ha fatto un bassino. Ho detto, senti, noi stiamo cercando un bassista. a cattido in basso e avviena solo con me. Ma che io, dimmi che io, ho una bacia da inviare, nel passato un po' più strano. e chiedo un sito a me, mi ha seguito un po' più strano. E quando lui ha incominciato a mettere fuori quelle sue poesie, per noi è stato un fatto naturale, capito? Noi quando facevamo i brani non c'era bisogno di provare, di provare, eravamo già pronti, la solo, la solo, la melodia, la melodia. I viaggi in pullman che facevamo durante gli spostamenti, è un po' la nostra vita, il nostro modo di essere. Succedeva di tutto su questo pullman, quindi andare per esempio, una serata a Milano, eh, era un viaggio praticamente. Mi viene in mente anche la grande energia di quel periodo, i grandi concerti. Insieme abbiamo passato degli anni fantastici. Poi è successo che ognuno di noi ha avuto dei successi ed era naturale che le strade si separassero. Ci siamo incontrati, ma ci siamo incontrati da amici. Pino ha avuto tante collaborazioni, non solo italiane, ma tanti musicisti americani, internazionali. Noi abbiamo seguito e inseguito il nostro successo personale. Dopo aver fatto tante esperienze, anche sperimentali, Pino ha deciso di riunire questa grande famiglia, di sedimentare quella collaborazione, come se avesse avuto voglia di storicizzare che è quell'incontro che per lui è stato formativo, quello è stato anche per noi, naturalmente. Noi andremo via, il tempo all'esterno. Grazie! Grazie! Grazie!